Sperduti nel buio, questo il titolo del documentario proiettato durante il secondo appuntamento della rassegna cinematografica Stars and Friends. Il regista, Denis Lotti, ripercorre alcune vicende del cinema italiano legate alla ricerca del film scomparso Sperduti nel buio. Questo è un documentario Sperduti nel buio che abbiamo realizzato lo scorso anno, dopo anni e anni di ricerca, che ci ha portato a Mosca, a Berlino, in Italia soprattutto, seguendo i film del centro sperimentale di cinematografia trafugati dai nazisti. La Wehrmacht di fatto acquisisce i film ufficialmente per proteggerli dall'arrivo degli alleati. In verità questi film andranno perduti e ci sarà un tentativo, almeno nell'immediato dopo guerra, da parte della Cineteca nazionale, di recuperarli. Questo purtroppo non avverrà. Però questo film di fatto riporta alla luce una storia misconosciuta, o tenta almeno di farlo, e creando una sorta di road movie sulle strade delle cineteche del mondo e mettere in relazione quelli che erano di fatto zone di guerra, stiamo parlando degli anni 43-45. La rassegna è stata organizzata dal Cinecircolo Nuova Ambra per rilanciare la propria attività, in collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia. La rassegna si intitola Stars and Friends perché abbiamo invitato degli ospiti che sono in qualche modo legati a quello che lo Stars offre a livello formativo. Quindi i primi due appuntamenti sono state due proiezioni documentari, mentre l'idea è quella di proporre nel secondo semestre altri due incontri. Adesso vedremo se in orario curricolare oppure come attività extra, quindi diciamo in un altro contesto. Questa rassegna è stata organizzata da un'associazione che si chiama Nuovo Ambra, che esisteva diversi anni fa, poi è stata chiusa, e io e Leonardo Margaglio stiamo cercando di ridare le vite e quindi usare questo contesto, questo contenitore per proporre appuntamenti, incontri, proiezioni, approfondimenti di quello che lo Stars offre. La collaborazione con il Cinecircolo vuole proporre agli studenti degli approfondimenti inerenti all'offerta formativa del corso Stars.